Ritengo che sia molto importante colmare questo divario, ho apprezzato tantissimo il lavoro compiuto dal governo centrale e il lavoro compiuto dai presidenti delle regioni particolarmente colpite che hanno capito l'importanza di colmare questo divario. Il 90% dei fondi sono concentrati in queste regioni, quindi che sono a rischio di perdita, sono concentrati in queste regioni e in particolar modo nel settore del trasporto e delle infrastrutture. Allora nell'arco dei prossimi sette anni l'Italia dovrebbe ricevere circa 32 biliardi di euro, di cui 22 miliardi dovrebbero essere investiti nel sud d'Italia. E quindi è importante lavorare in questa direzione e cercare di capire quali sono i progetti che verranno presi in esame e quali sono quelli che potrebbero incontrare il miglior successo nel sud e in particolar modo risolvere il problema della disoccupazione giovanile. Io sono qua proprio per manifestare la mia solidarietà per quello che sta succedendo nelle acque del Mediterraneo e ritengo che va risolto il problema. Proprio oggi il Consiglio europeo sta esaminando, prendendo in esame possibili soluzioni. E comunque noi siamo tutti solidali e bisogna risolvere questo problema di vite umane che vengono perdute. Posso soltanto lodare lo sforzo che ha fatto finora il Governo nel cercare di trovare un accomodamento e una sistemazione per tutti gli immigrati arrivati legalmente. Ovviamente bisogna trovare una soluzione ora per coloro che arrivano illegalmente. Ed è un problema che riguarda non soltanto l'Italia ma tutta l'Europa. Proprio al momento si sta tenendo una riunione a livello di Consiglio. Il commissario che si occupa prettamente dei problemi di immigrazione sta mettendo a punto un programma con 10 punti che sicuramente verrà sostenuto e approvato dagli altri membri, finalizzato proprio a meglio risolvere questo problema. Comunque io invito, come anche l'Unione europea, l'utilizzo dei fondi che vengono messi a disposizione nel periodo passato e nella programmazione futura proprio per affrontare anche e trovare una soluzione.